You Ciao a tutti ragazzi e ragazze Ben ritrovati in questo nuovo video Oggi siamo ritornati su Dino Hunter Deadly Shore Ah ragazzi Era da tanto tempo che questo gioco Non lo giocavo Cioè avevo portato un video sul mio canale E un po' certe volte L'avevo Cioè l'avevo un po' dimenticato questo gioco E in questi giorni mi ero dimenticato Di provarlo Infatti con il gioco non sono andato avanti E quindi L'ho lasciato un po' In abbandono In uno stato di abbandono Per dire non proprio se è corroso tutto Ma nel senso che Non ho fatto delle partite e altre cose Però almeno sono ritornato qua Magari Perché dato che avevo intenzione di portarlo Perché Oltre perché Dino Hunter Deadly Shore È un gioco sui dinosauri E i dinosauri sono Una delle mie più grandi passioni Che ho E quindi è anche bello Riprovarlo Va bene Io direi di iniziare Avanti Allora ragazzi Se vi ricordate Nello scorso episodio Anzi Nel primo episodio Avevamo Giocato Cioè avevamo Abbiamo iniziato Con il primo La prima La prima missione Era di uccisere un veloci Rattor Poi abbiamo Ucciso un grosso Stegosauro E poi Avevo affrontato Un boss Un gigantesco Tirannosauro Ovviamente So che andando avanti Ci saranno Delle regioni Tipo le mappe Le mappe Cambieranno Di tipo Quindi alcune saranno Diverse Alcune saranno Molto Più Molto fighe Alcune tipo Per esempio Avranno Gli oggetti Le terre volanti Le terre fluttuanti Insomma Cose dell'altro mondo Ovviamente ci saranno Anche Mi sembra Dei dinosauri Zombie Mi sembra Nelle alcune regioni Quindi ragazzi Questo gioco E' anche Molto interessante Mi dire Forse magari Chiedo scusa Per quelli che magari Volevano che io portassi Magari Dino Hunt Deadly Shore Che magari Avranno sentito La mancanza E Vabbè Ho comunque deciso Di portarlo Comunque ragazzi Adesso Sto pensando Anche Ormai Di non portare Più video Videogiochi Cioè Dei video su Dead Trigger Il gioco Perché Decisamente Mi sta Annoiando Fatemi sapere In un commento Alla fine Al fine Del video Se Io devo portare Sul mio canale Dead Trigger Devo anche Pursmettere Vabbè Io direi Intanto di iniziare Con la prima missione Di oggi Abbatti un Androsauro Giovane Con un colpo Di polmone Va benissimo Va bene Va bene Tanto so Dov'è Un Androsauro Un Androsauro Anche questo Ok Un Androsauro Va bene Speriamo di colpire Il polmone Ok Questo è il mirino Tocca per attivare L'infrarossi L'autonomia Delle batterie Che alimentano È limitata Ok Vabbè Spariamo Missione facile Ragazzi Polmone colpito Abbiamo guadagnato 25 dollari Vabbè Uuuuh Magari Avesse un fucile Uno spas 12 Dorato Ma quelli Sono sogni Sono sogni Purtroppo Va bene Battuta Battuta Aspetta C'è un boss Abbatti serpe Credo che sia Un Driosauro Un boss Questo Vabbè Proviamo Potenziamo un po' L'arma Ok Potenziamola un po' Ok Eccellente Canna potenziata Ma direi di provarci dopo Con questo boss Tanto direi Che possiamo anche pure Evitare di farlo Proviamo a fare questa missione Abbatti Due Stauricosauri Giovani Va bene Però Seleziona la tua arma Marshmallow Però dai Magari Potessi usare un fucile a pompa Di questo tipo Magari Vabbè Riproviamo Proviamo questa missione Inizia la caccia Allora Seleziona La tua arma La tua arma Vabbè Non so Proverei il fucile d'assalto Tanto per provare Non so se sarà più difficile Ovviamente Ovviamente Lo Stauricosauro È imparentato Con la Famiglia Da Intenditore Di dinosauri Lo Stauricosauro È imparentato Con la famiglia Dei dromosauridi Ossia Tipo il rattle Veloci rattle Quelle cose così Ok Ce n'è uno laggiù E Forse avrei dovuto Prendere il fucile Oh cazzo No 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 Mancato Dai No 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 Dai Sì Zampa colpita Oh mio dio Sono resistenti anche l'ho Eh no La pubblicità Ok Missione compiuta ragazzi Bene Abbatti serpe Vabbè Non so ragazzi Io direi Di fare Questa prima Ancora Questa terza Missione E poi Di sconfiggere Questo boss Va bene Abbattiamo Tre Stauricosauri Giovani Con il fucile Da cecchino Ovviamente Ovviamente Sembra un velocirato Oh mio dio Questo è vicinissimo A me Ok No Aspetta Dove ho Mirare ragazzi No Mira 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 Ok 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 Gli ho alertati Tutti Ok Pronco colpito Ok Ok Dai 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 No Mancato 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 Ma no 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 Volevi Ok Siamo sopravvissuti Questi Questi sono peggio Ragazzi No Si tratta di No Non me ne frega Niente Di questa fetta Mamma mia Questi ragazzi Sono peggio Degli zombie Beh Almeno Quando ti attaccano Almeno È più facile Vabbè Io ragazzi Direi di provare Questa missione Sperando di riuscire A uccidere Anche se Credo che sarà Difficile Abbatti serpe E infatti Ci sono i boss In questo gioco Abbatti serpe Quindi ragazzi Credo che sia Un Un drio sauro Ok Aspetta 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 Ok No 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 Ecco Te Dai 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 Ricaricati Si Ok Qual è colpito Abbiamo accumulato 50 dollari Beh Non è stato davvero Difficile ragazzi Primo boss L'abbiamo ucciso Facilmente Ok Questo è imponente Questo è Craig No Aspetta Craig Eventi sbloccati Cosa Ho sbloccato Degli eventi Ah si Ora mi sono dimenticato Di dirvelo Ragazzi Praticamente Hanno fatto Un nuovo aggiornamento Dove ti permette Di Sboccare Tipo degli eventi Qua ovviamente Ci sono Oh mio dio Questa la Questa la ragazzi La voglio prendere Lo confermo di prendere Mio dio Fucile a pompa Ragazzi Oh mio dio No ragazzi Ho preso un fucile a pompa Una delle mie armi Preferite Nei videogiochi Va bene Proviamo A iniziare Questa caccia Ai venti Abbatti 5 Ve l'ho girato Oh mio dio Con un fucile a pompa Ragazzi ragazzi Con un fucile a pompa Sogno Oh mio dio Devo Devo potenziare Ragazzi Vediamo se si può potenziare Per il momento Ragazzi Ragazzi Proviamo a potenziare Quest'arma Ovviamente si Personalizza le tue armi Con i modificatori Mostramelo Accetta Va bene Chiudi 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 tanto Anzi Aggiungiamo Chiudi Vabbè Dai Adesso Potenziamo la nostra Baby Potenza Ok Ragazzi Ragazzi Ok Adesso proviamo A vedere se ci No vabbè Proviamoci dopo Ok Bene Adesso proviamo Andare indietro E a fare la missione 20 E proviamo E proviamoci Di nuovo Anche se credo Che probabilmente Falliamo subito Ci servirebbe Uno di quei tipi mirini Ok Uno l'ho ucciso Ok Ok E dai Muori Oh no Ok Sì E ancora Sì Ragazzi Cioè Ragazzi Va Va benissimo Tanto Cioè Mi va bene Già Questo evento Mi è piaciuto Vabbè Mi è utile St'arma Proprio utile Ehm No Adesso No Vabbè Equipaggia Ok Dobbiamo adesso Adesso Volevo provare Questa missione Dove dobbiamo Abbattere Uno stegosauro Poi ragazzi Dovremo affrontare Il prossimo boss Che è Il re degli stegosauri Che di nome Craig Credo che sia Il re degli stegosauri Ok Questo si trova Molto vicino a me Ed ecco Già Colpito E Ma No Ma mi vuole uccidere Mi vuole uccidere Pensavo C'era Anche Un conto è vero Perché dato che si trovava Vicino a me Poi mi avrebbe attaccato You're joining Vabbè Mi dicono Se vogliono sapere Se mi piace il gioco Io clicco mai Perché non c'ho voglia di Io qua Non voglio mai Votare il gioco Perché poi sarebbe Una perdita di tempo Però Comunque ragazzi Questo gioco mi piace Non è Ho solo cliccato mai Perché Nel senso Per non avere rotture Ok Dobbiamo potenziare La nostra arma Ok Potenziamola Abbiamo speso Un po' di soldi Ma Chi se ne frega Vabbè ragazzi Torniamo alla mappa Abbatti Trecantosauri Vabbè ragazzi Comunque Fatemi sapere In un commento Se spesso Devo portarlo Su questo gioco Perché sinceramente A me Si piace portarlo Poi Non lo trascurrerò In tutti questi giorni Lo porterò Non vi preoccupate Voglio solo sapere Se vi piace Comunque Come gioco Ok Adesso Allora Proviamo a vedere Con l'infrarossi Vuole provare A colpire un polmone Ecco Ok 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 Polmone colpito Ci farà guadagnare Più soldi Ragazzi Ok No 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 Usa le batterie Per ricaricare L'infrarossi Confermi no Tanto No No Ok Vabbè Forse non l'abbiamo Colpito ai polmoni Ma Non l'abbiamo ucciso Si L'abbiamo colpito al tronco Vabbè Molto bene Ragazzi Cioè comunque È un buon gioco Abbatti due Psilodonti Giovani Ovviamente Dobbiamo potenzialare sempre Le armi Un continuo ragazzi Vabbè Facciamola dopo Sta missione Tanto Chi se ne frega Proviamo a fare Intanto Sta missione Di abbattere Due steuricosauri Giovani Non so Ragazzi Io Proverò a usare Il fucile a pompa Ah no Vabbè Non so Ragazzi Opa Devo sempre Ritornare indietro Scusate Ragazzi Ok Andiamo avanti Vabbè Iniziamo sta missione Non so Ragazzi Io È meglio direi Di utilizzare Il fucile da cecchino Poi perché È più facile Con questo Uccidiamo facilmente Dei Di dinosauri Ok Aspetta Aspetta No Che 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 Non vedo Più E E Volevi Attaccarmi Aspetta Aspetta Vediamo Se Lo riusciamo A colpire Ok Occhio Colpito Cioè L'ho colpito Un occhio Non mi fa Neanche Guadagnare Ok Ragazzi Allora Niente Ragazzi E allora Io termino Qual video Comunque Spero Che Questo Episodio Vi Sia Piaciuto Mi Raccomando Iscrivetevi Al canale Fatemi Sapere In un Commento Cosa Vedete Che Io Porti Sul Mio Canale E Attivate La Campanella Per Gli Avvisi E Ci Vediamo Al prossimo Video Ciao Tutti